eccoci qui ancora tutti in gruppo adesso cominciano gli scalatori ad andare su siamo alla seconda curva per la scalata per la maddalena adesso gli atleti vanno in su adesso ripartiamo qui il gruppo si è già un po sfilato gli scalatori sono già avanti di molto e siamo appena all'inizio qui saranno 200 atleti eccole le cova sabbia eduardo fausto e qualche alti due alzati delle cova sabbia è un po sfilato Eccolo qui, qui siamo alla testa, la testa della gara eccoli qui il gruppo già sfilato e questo è il gruppo dei scalatori. Eccolo qui, il gruppo si è spaccato in tanti piccoli tronconi. Eccoli qui gli atleti, questi già cominciano a tribolare molto probabilmente sono dei velocisti, Roberto Marinnone, Chiburti. Eccolo qui. Roberto. Ciao!